John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Biagio a diramato la lista dei convocati per l'europeo italiano perché si giocherà in Italia a San Marino dell'Under 21 Allora, tra l'altro io vorrevo fare un piccolo appunto, no? Tra l'altro, giusto per dire, ho la pagina qua davanti di numero 10 Vabbè, comunque, seguite lì su Instagram, la pagina è nostra Comunque, voglio fare un piccolo appunto prima di partire Tra l'altro, lasciatevi, mi piace se volete che io segua l'europeo Under 21 passo passo Mi chiedevo, no? Ma è mai possibile, secondo voi, che un allenatore come Di Biagio, così poco vincente come Di Biagio Continui ad essere imperterrito il centro della nazionale Under 21? Ora, sia chiaro, sia chiaro, sia chiaro Io non ho niente contro il mio cazzo tanto scinare, tipo, non lo so, sta per terra, spiace la faccia A me che fa caldo, fa 40 gradi, però, no, ne farà 30, 27 Vabbè, sia chiaro, io non ho nulla contro Di Biagio, ok? Sebbene io pensi che due anni fa abbiamo perso l'europeo per colpa sua Per delle scelte tecniche un po' alla cazzo, un decanis E sebbene io pensi che anche il nazionale maggiore Abbia mostrato dei limiti parecchio, parecchio grossolani Però, al di là di questo, io credo, ragazzi, che Di Biagio Abbia fatto il suo tempo in nazionale maggiore In nazionale maggiore, in nazionale minore anche Abbia fatto il suo tempo Cioè, ora, non è cattiveria, non so se vogliono creare una sorta di Procedimento similare a quanto fatto da Alberto De Rossi con la primavera della Roma Che salì da 50 anni, li ha lanciati tutti lui E si gioca sempre con quel modulo Però a me è sempre sembrato Di Biagio Un allenatore un po' troppo sopravvalutato Io ho guardato molto spesso Video di Di Biagio Ho letto libri, ho letto interviste Per cercare di capire il modo in cui Di Biagio giocassi E a me è sempre sembrato un modulo, un sistema di gioco Un'organizzazione un po' blanda Un po' scolastica, ok? Il che, per una nazionale che punta ad arrivare in alto Perché poi questa, ragazzi, non prendiamoci in giro È la nazionale che tra 4 anni farà i mondiali di calcio Qualora ci dovessimo qualificare in Qatar Ce ne saranno un paio diversi, 3 o 4 diversi Ma poi o meno sono questi Guardate le nazionali Cato, per esempio, parte agli Under 21 L'Europeo è sempre quelle che poi sono andate Tipo nel 2004, mi sembra C'avevamo l'Under 21 Che poi ha vinto quell'euro e quell'europeo Che praticamente è la nazionale maggiore Che due anni dopo vincere il Mondiale nel 2006 C'erano forse un altro paio di giocatori esplosi In quei due anni Magari tipo i vari grossi Non mi ricordo se ci fosse o meno Forse c'era addirittura In Under 21 Che stava iniziando a dimostrare qualcosa a Palermo Quindi, insomma, sono quelli, ok? E vederli giocare in un sistema un po' scolastico Un po' mi stucca Vabbè, comunque adesso passiamo ai convocati Poi andiamo, vi dirò la mia E poi andiamo a leggere qualche commento Anche sotto la pagina numero 10 calcio in Instagram Per cercare un po' di rispondere ad alcuni di voi Allora, portieri In porta ha convocato Meret, Audero e Montipò Allora, Montipò, ragazzi, è tanto per, ok? È uno shot Una possibilità, una chance in più Ma non giocherà mai Quindi non andiamo a criticare anche Montipò Perché altrimenti veramente siamo alla frutta Critichiamo tutti I nostri portieri saranno Meret e Audero Con tutta probabilità il titolare tra questi Sarà Meret Perché comunque a Napoli Ha dimostrato di poter Diciamo Di poter stare Di poter resistere Anche ad una pressione europea Piuttosto forte, ok? Quindi penso che Meret sarà titolarissimo Anche se Audero a livello di prestazioni a Genova Ha fatto anche meglio Quindi abbiamo due portieri molto molto forti Donnarumma non era stato convocato Perché? Perché lui ha detto Bene, è inutile che mi porto Donnarumma, Meret e Audero Certamente avremo i tre portieri più forti dell'europeo Però se Donnarumma ormai è già improntato Nella nazionale maggiore E c'ho Meret È inutile che mi porto Donnarumma Altri giocatori anche sono improntati Nella nazionale maggiore Guarda Chiesa Però è chiesa se gioca Gioca titolare Donnarumma giocherebbe titolare Levando Meret Che comunque Donnarumma è un 8 Meret è un 7,5 E non lo so Perché per alcuni Meret è anche più di Donnarumma Quindi insomma Come il ragionamento ci sta Passiamo adesso ai difensori centrali Ora, oggettivamente Tra i centrali terzini Non siamo poi così forti Se pensiamo che all'ultimo europeo Avevamo giocatori come Caldara Come Romagnoli Come Rogani Poi mi sembra che Romagnoli Romagnoli e Rogani era rotto Quindi uno di questi tre è mancato Però la nostra difesa a tre Doveva essere formato da Romagnoli Rugani e Caldara Quindi pensate bene Che avevamo tre difensori Che comunque erano tra Il pacchetto difensivo più forte Dell'intero europeo Adesso siamo un pochino indietro Abbiamo Bastoni Che a Parma Ha dimostrato di essere un buon giocatore Abbiamo Bonifazzi Che a Torino Insomma non ha sfigurato Anche se va detto che comunque Non è titolarissimo E qui un po' viene penalizzato Abbiamo Mancini Che sarà il titolare di questa nazionale E abbiamo Romagna Che probabilmente sarà l'altro titolare Sono indeciso Se vedere vicini Mancini e Romagna Ho Mancini e Bastoni Romagna Cagliari ha dimostrato di essere Un buonissimo giocatore Al di là di tutti quelli Che girano intorno a lui Quindi i vari Ceppitelli Pisacani Clavan Romagna dimostrato di essere L'unica certezza vera Di questo Cagliari Io penso che alla fine Mancini e Romagna Siano i due titolari Mancini senza alcun dubbio Come scelte Come scelte non posso essere Cattivo Non posso giudicare Perché penso Siano le più giuste da fare Tra i terzini Abbiamo A Japong Calabresi Di Marco E Pezzella Ho messo Calabresi Tra i terzini Perché tutta la stagione L'ha fatta da Terzino Al Bologna Anche se penso Che comunque Anche se so Che comunque Il suo ruolo originale È il centrale di difesa Andando a guardare Un po' i terzini Io sinceramente Non Io diciamo Fatigo a vedere Di Marco E Pezzella titolari E penso che alla fine A Japong Sarà il titolare indiscusso Tra i terzini Di questa nazionale Quindi mi viene subito Istintivo pensare Che alla fine L'altro titolare Dall'altra parte Sarà Calabresi Quindi penso Che Calabresi Giocherà titolare Vicino ad A Japong Saranno i due terzini Di questa nazionale Under 21 Ovviamente molti Roteranno Non è che ci saranno 11 e 11 saranno Tutta la spedizione Però penso alla fine Saranno questi Passiamo ai centrocampisti In mezzo al campo Abbiamo Barella Locatelli Mandragora Murgia Pellegrini Tonali E Zaniolo Allora Qua ne servono tre E io ragazzi Penso Senza Troppi dubbi Che sia Zaniolo Che Tonali Faticheranno a trovare spazio Qualcuno dirà Ma com'è possibile Cioè Zaniolo Faticherà a trovare spazio Zaniolo Probabilmente Sì E Tonali Probabilmente Sì Anche se Penso che Zaniolo Verrà lanciato Come esterno D'attacco Ma ci arriviamo Allora Penso che Barella Sarà indiscusso Titolare da Mezzala Insieme a Pellegrini Ragazzi Per quello che si possa dire Barella e Pellegrini Sono due giocatori Da nazionale maggiore Ok E sono un lusso Per questa nazionale Quindi Sia Barella Che Pellegrini Giocheranno titolari In questa nazionale Ora Resta la scelta del mediano Zaniolo È tutto forché un mediano E per questo Pensando anche poi Che l'Italia C'ha poche ali Tra gli under 21 Viene in mente Il fatto che Zaniolo Potrà giocare All'attacco Leviamolo Ci abbiamo Murgia E Locatelli Che per me Sono due ottimi vice E niente più Murgia e Locatelli Sono due panchinari Parliamoci chiaro Locatelli ha fatto Una buona stagione A Sassuolo Murgia ha fatto Una buona stagione Se non sbaglio La Spal La Spal Murgia Comunque Hanno fatto due buone stagioni Ma niente più Possono giusto Fare i panchinari Oggi è stato matuto E penso che quello faranno A questo punto La scelta del mediano Tra Mandragora Che dovrebbe Giocare mediano Quindi attenzione Dovrebbe Nell'Italia Di Di Biaggio Mandragora Giocare mediano E Tonali La differenza quale ragazzi La differenza è che Mandragora È il capitano Di questa nazionale Che si voglia Accettare o meno Che lo si voglia Comprendere o meno È il titolare Di questa nazionale Ora perché Voi direte Mandragora mediano Perché guardando Barella Pellegrini e Mandragora Forse quello che mi viene in mente Un po' più mediano È lo stesso Mandragora Anche perché ragazzi Barella è un giocatore Che mena tantissimo E uno con quelle qualità Per me può giocare Giustamente Essendo proprio I cupra palloni Può giocare giustamente Da Da mezzala E poi l'altro ragazzi È Pellegrini Che da mezzala È anche È anche leggerino Cioè Bisognerebbe veramente Lanciarlo come Trequartista Quindi Immaginarselo Mediano Fa veramente fatica Mandragora Che comunque Mediano Ci ha giocato Per me giocherà lì lui E Tonali Che comunque Secondo me è più forte Di qualità Farà panchina a Mandragora Detto questo Andiamo a guardare Gli esteri d'attacco Per quanto Ha sputato un bambino In questo momento Per quanto riguarda Le fasce In attacco L'Italia ha Sulle fasce Chiesa Orzolini E basta Questi sono i due Alli dell'Italia Chiesa e Orzolini Orzolini ha fatto Una signorina Una signorina Tanto c'ho questa maglietta Si fa di comprarla Link in descrizione Tra l'altro Guardate La facciamo noi Quindi nel senso Non è che sto sponsorizzando Qualcosa La facciamo noi Chiesa è titolarissimo Chiesa gioca Punto e basta Cioè non esiste Chiesa non giochi Chiesa è titolare Punto e basta Dall'altra parte Orzolini Ora Orzolini però ragazzi Ha fatto sei mesi buoni Ottimi Fantastici Fantasmagorici Per me Orzolini Meritava anche La nazionale maggiore La chiamata Però ovviamente C'è l'Under 21 La spedizione C'è la possibilità Di fartelo Anche da titolare Quindi per me È normale Che Orzolini Sia stato chiamato Però se io ci devo Scegliere Tra Orzolini E Zaniolo Vado a scegliere Zaniolo Poi ci sta Che Orzolini Giochi di più Bisognerà vedere poi Di Biaggio Come si troverà Però in questo momento Per me i titolari Sulle facce sono Chiesa e Zaniolo Andiamo a guardare Le punte Per concludere Le punte Davanti abbiamo Cutrone Ken E Pinamonti Pinamonti per me Non giocherà Giocherà uno Tra Cutrone e Ken Sono In difficoltà Grande Penso giocherà Giochi Ken Perché il nazionale maggiore Già sta facendo Abbastanza Però anche Cutrone Ragazzi è veramente Difficile lasciarlo fuori C'è qualcuno Sotticomenti Dice È quasi più forte La nazionale maggiore Più che altro ragazzi È la nazionale maggiore Perché La nazionale maggiore Addirittura ha fatto Dei sacrifici Per lasciare All'Under 21 Giocatori Quindi Quindi secondo me Sarà così Pinamonti mi fa ridere Perché ragazzi Pinamonti sta facendo L'Under 20 L'Under 21 Noi ci manca pure Che lo chiamano a fare Il Cioè in Pinamonti Stanno le vacanze E non le fa Non le fa Boh Non lo so Non lo so Io penso che Pinamonti Alla fine finirà il mondiale Bisognerà vedere dove arrivere Dove arriveremo con il mondiale E poi si aggregherà con l'europeo Tra l'altro qualcosa di pazzesco Sinceramente non ho capito Perché Luca Pellegrini Non è stato chiamato Cioè allora Aspettate A Cagliari Ha fatto molto bene Chiedere ai tifosi del Cagliari Per credere E visto che tra i terzini Non è che avessimo Sta grandissima scelta Adattiamo Calabresi Terzini Non ribadisco Probabilmente sarei stato Più contento A vedere tra i terzini A Gia Pong E Luca Pellegrini Cioè se dovevi proprio Volevi portare i calabresi Volevi portare tutti quelli Che hai portato Ci sta Però lasciami a casa Pinamonti Che stai a faffa Tutte le selezioni Quindi non lo so Mi fa ridere ragazzi Tra l'altro che Pinamonti Finisce il mondiale Il 20 E il 15 E inizia l'europeo Il 16 Quindi Pinamonti Potrebbe veramente Cioè Grattata di palle Potrebbe veramente Portare a casa Due competizioni Tipo in 10 giorni Vediamo un po' Calabria ancora rotto Sì Si è rotto il Perone Quindi Non giocherà Calabria Va bene Ok Allora Già capisco Già capisco Per il resto Ve l'ho detto Io forse Luca Pellegrini L'avrei portato Cioè nel senso Alla fine Regà È vero che sta a fare L'Under 20 Però è anche vero Che pure Pinamonti Sta a fare L'Under 20 Ed i terzini Ne abbiamo bisogno Davanti abbiamo Cutrone Ken Boh Non lo so Non lo so Vabbè Comunque fatemi sapere La vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Qualora non l'aveste ancora fatto Se vi è piaciuto il video Come sempre Rai lasciare un mi piace In caso di poter come sempre Un dislike Vi ringrazio Per aver visto questo video Seguite su Instagram Numero di Ezz Se chiama Numero di Ezz Calcio Seguitevi anche a me su Instagram Se vi va Simone Siquolf Trattino Basso Official Boccio alla alla Noi come sempre Ci vediamo ad un prossimo video